Non è così difficile trovare delle effimere a casa mia. Sebbene abbiano una vita molto breve da adulte, spesso riescono ad entrare in casa. Questa volta però c'è stata una invasione rispetto ai numeri che riscontro solitamente. Le vere invasioni di effimere capitano spesso in America, dove si arriva al punto di dover usare degli spazzoloni per rimuoverle. Alla Casa del Verde siamo ancora in salvo, non preoccupatevi verdastri. Alla Casa del Verde